Il palco si sposti da quella parte lì, su, 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 arriva, vieni qua, grazie, no, tu qui vicino, bravo. Signori, come ti chiami? Veronica, signori, alla mia destra Veronica, un bel applauso a Veronica, alla mia destra Veronica e alla mia sinistra, ma non ha importanza, va bene? Scusa, ma sono mago, ma giustamente mica scemo, quindi... Quando lo chiedevo a mio nonno mi diceva, il colore della donna è fra il marrone chiaro e il marrone scuro, praticamente fra i due maroni, grazie. La donna ha sempre avuto ghiandole sviluppate più dell'uomo, per esempio quella della lingua. La donna ha la lingua così lunga che può attaccare un francobollo anche quando la lettera è già stata imbucata. La chiesa è deriva che Adamo è venuto prima di Eva, così ha avuto cinque minuti per parlare, cinque, e basta, si è messo lì in un agolino, il resto lo sappiamo perché ne vediamo tanti qua davanti, giusto? L'attore giovane lui, alza di bravo, meravissimo così, non c'è niente da vedere, e se chiamiamo il secondo soggetto un po' più maturo, un attore diciamo... Un applauso! Un applauso! Grazie a tutti! Grazie a tutti!